Nell'allenamento congiunto pre Coppa Italia dilettanti il Pineto si impone per 4 a 0 contro il Morro d'Oro a segno per i biancazzurri Braghini Allegretti, Losicco e Marchegiani con tutte splendide conclusioni in fotocopia sotto il 7. Penultimo dunque allenamento congiunto per la truppa di mister Daniele Amaolo che riabbraccia la sua ex squadra del Morro. Ultimo impegno prima della stagione irregolare davvero particolare per i rivieraschi giovedì 25. Continuerà la tradizione del pellegrinaggio al santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso e a seguire allenamento congiunto con il Montorio. Per il tecnico degli abruzzesi ulteriori test per rodare i tanti nuovi innesti e lo scacchiere tattico dell'undici del presidente dottor Silvio Brocco fortemente voluto anche con gli stretti consigli del direttore sportivo Moreno Sacchetti. Tra sette giorni dunque primo impegno ufficiale in Coppa Italia di Lettanti domenica 28 agosto allo stadio Mariani Pavone contro il San Nicolò Notaresco con fischio d'inizio alle ore 16 mentre salvo rinvii la prima giornata di campionato nuovamente in casa domenica 4 settembre alle 15 contro il Termoli. Ne ho promosso!